il confronto con gli altri artisti c'è ma ritengo che ci sia soltanto in alcune occasioni molte volte limitato queste occasioni sono un incontro delle delle mostre che fanno alcune gallerie allora ci troviamo mangiamo un panino beviamo un bicchiere poi parliamo un po del nostro lavoro così poi penso che ognuno di noi in base alla sua personalità in base a dei feeling non so in base a non so che cosa si sceglie un entourage di amici e che frequenta più assiduamente questo al mio caso io ho degli amici che frequento parecchio con loro sto bene con loro vedo mostre con loro facciamo anche 4 500 chilometri per andare a vederci delle mostre ecco con loro vivo praticamente un po non dico la quotidianità però ci si vede ci si sente anche per telefono con altri pur essendo miei amici pur essendo bravi pittori bravi artisti sia per la distanza chilometrica dei dei vari paesi ci vediamo all'inaugurazione delle mostre magari tante volte usciamo anche a cena uno dei ritrovi uno degli ultimi spazi espositivi dove ci si trova e dove ci sono anche dei concerti di amici musicisti e lo spazio 104 di bergamo ecco questo è l'ultimo spazio che ci rimane dove ci incontriamo e dove e dove parliamo insomma niente poi ho le mie frequentazioni capitano dopo niente da maurizio bonfanti ci vado una volta due la settimana con francesco però in belli ci si incontra lì con roberto rampinelli di di capriate ci troviamo frequentemente usciamo mangiare la pizza con la modello carrara con giorgio marcasoli ci vedevamo ci vedevamo parecchi insomma sì i nostri incontri erano sono stati parecchi anche quando c'era la galleria via moroni 16 allora lì ci si trovava ci si trovava con calisto gritti e leo bianco eravamo sempre in cinque o sei insomma lì e allora si parlava di pittura si facevano battute si rideva sempre in avanti e un paio di bottiglie di vino ecco quello è uno spazio che da quando marivea bonzani ha chiuso per noi è stato una una perdita abbastanza importante